salve a tutte e tutti qui il vostro amico santen gian che vi raccomanda di seguire questa iniziativa di salvatore per la rai italy in a dei che sarà la vostra opportunità anzi la nostra opportunità di esprimere la nostra italianità tanto per quelli che viviamo all'estero come per quelli che vivono in italia ed anche per poter guardare alla creatività dei nostri connazionali sarà un momento unico anche se non necessariamente originale e irripetibile anche se magari faranno altre cose uguali beh io ho già mandato il mio materiale come ho già detto in varie occasioni e forse continuerò a mandare altro materiale di quello che ho preparato il giorno sabato comunque se non lo selezionassero io lo lo caricherò lo stesso nei miei canali di youtube di me o degli motion santen gian mi raccomando un abbraccio caloroso del vostro amico santen gian e partecipate e guardate questa bellissima iniziativa di salvatore italy in a dei ciao 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 ciao